e salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo clamoroso video allora innanzitutto vi ricordo di supportarmi lasciando un like al video iscrivendovi al canale quadrato per chiesa quadrato per chiesa quadrato per chiesa anche a sentirlo suonare suona molto strano però questa è la bomba che ha rilanciato il quotidiano spagnolo don ballon quotidiano molto prestigioso spesso molto attendibile però una notizia che ci lascia quantomeno un po per pressi c'è perché comunque quadrato è in età un po avanzata quindi il suo valore di mercato per quanto giocatore forte non potrà essere clamoroso infatti comunque nella juventus dovrebbe soldi e quadrato per chiesa e sia perché comunque sarebbe ora è vero che quadrato è stato penalizzato da diverse infortuni ha già trovato poco però per quel grado mi vuole dirlo ma juventus fiorentina la carriera a picco purtroppo e quindi mi sembrerebbe strano poi è un ingaggio nella fiorentina non si può permettere però quello dipende anche dalla volontà del giocatore nel senso se il giocatore ha decide di andare via decide di tornare in un posto che conosce che gli piace e vuole divertirsi già negli ultimi anni con un tecnico che conosce montella quello si può fare penso in ingaggio in questo vicenda non sarebbe nemmeno il problema principale però appunto questa ipotesi fatta dal quotidiano don ballon ma che per il momento mi sembra infondata e mi sento di smentire che montella riabbraccerebbe sicuramente quadrato volentieri questo penso sia un dato di fatto inconfusabile però allo stesso tempo non credo che davvero quadrato voglia tornare a me sostiene il quotidiano spagnolo non credo che ci siano appunto come già detto gli spiragli economici non credo nemmeno alla fiorentina convenga così tanto prendere un merci di scambio per un giocatore giovane come chiesa un giocatore in età avanzata ma è quadrato e penso anche sia contro la politica societaria perché soprattutto quanto l'evo corvino qualora venisse un fermato io ancora qualche piccolo dubbio l'ho anche se come vi ho già detto ultimamente ora è più probabile molto più probabile resti rispetto che vada via corvino è sempre stato contrario a prendere e pagare tanto comunque dare un bel lingaggio a giocatore in età avanzata per filosofia per il tipo di lavoro e francamente non gli do nemmeno troppo torto nel senso in alcuni casi avrei lasciato perdere Gonzalo e Borca Valera avrei cercato un accordo dei pretenuti perché due di esperienze in quella maniera servono si vede nello spogliatoio quest'anno manca esperienza manca leadership l'unico che ha leadership è Pezzella però non basta però è una politica che comunque condivido perché il Milan di Berlusconi si è rovinata fa così dando ingaggi importantissimi ai giocatori troppo anziani per troppi anni quindi è bene avere una politica degli ingaggi e bene stare attenti però mi sembra comunque una cosa difficile ecco questa fotizzata da Don Ballon quindi per il momento ve la smentisco però ve la metto lì clamoroso Juve quadrado e girata alla Fiorentina per chiesa direzione Sorino questa è la voce rinanciata a Don Ballon ve la metto lì la mettiamo in in un cassettino e la finiamo lì se ci fossero degli eventuali sviluppi ve li darò ma per il momento tutto resta bloccato e per oggi è tutto noi ci vediamo nel prossimo video